Iniziano le scievi nel suo e te li vai dietro dai! Te li chiusi eh, non aprire le gambe! Via! BANI! GRANDIIIIII! Da metto un po' non sa troppo poco Sei un grande GIPPA! Sei un grande GIPPA! Sei un grande GIPPA! Sei un grande GIPPA! Fai con l'Italia 1! Fai l'Italia 1! Guarda che è uguale! Dopo il peso da una parte o dall'altra è uguale! Fai l'Italia 1! VIVA LA FIGA! Infatti mi lo mettono VIVA LA BIP! Speriamo che venga bene questi video! Troppo belli! Bravo Rob! E' l'unico Davide che non ne vuole! Ah no! Ormai eh! Nooo! 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 Lo sai che abbiamo visto ieri sera? La fede della ricciolona Amica della sorella di Ale Ah si? Si! E' una mia zona? Nooo! Era con altre tre o quattro amiche Tutte vogliose! Io ero una mia aluna quando insegnò catechismo Si! Guarda ti sta prendendo a te eh! Nooo! Quando sei caduto lì in quel momento lì Devi regolarti un po' te con Si si! Con la corda Con il peso Per tenerti in equilibrio Quell'attimo che... E poi la minchia! Tieni la moscia! Se no Ari! Tira sul cavalletto! Pronto? Vai! Chiudisci! E' super picchia! Dai vaiii! Piano piano! Piano piano! Piano piano! Piano piano! Piano piano!